Con l'azione, con Radio Alta, Radio Alta Stavo cercando questa mattina di fare mente locale di quando poi noi ci siamo collegati per la prima volta con Vincenzo. Credo fine aprile, inizio maggio, poi ci dirà lui per questa avventura che doveva durare circa 7.000 km. Ne ha fatti fino adesso quasi 5.000, che non sono assolutamente pochi. Allora noi vogliamo collegarci con il nostro pedalatore stanco, che effettivamente è un po' stanco. Vincenzo Cervi, insieme a Vincenzo. Eccoli lì i nostri pedalatori. I love bikers, vedo questa foto di questo cappuccino all'italiana. Vincenzi, buongiorno, buongiorno Vincenzi. Come state? Bene, bene. Avete fatto le ore piccole per caso? No, 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 qua si va prestissimo. Allora, intanto, sentite, io devo fare i complimenti a Vincenzo. Quando sei partito, Vincenzo, qual è il giorno della partenza che non ricordo? Fine aprile? Eh, no, metà aprile più o meno. Metà? Adesso mi scugge. Ok, metà aprile. Quindi è da aprile che noi ci sentiamo, sostanzialmente, quasi tutti i giorni con Vincenzo per questi viaggi bellissimi, con queste cartoline, con queste foto che lui ci ha fatto pervenire dalle sue tappe, insomma, bellissimo. Poi ha incontrato Vincenzo, l'altro Vincenzo. Ecco, quanti chilometri avete fatto insieme, Vincenzi? Insieme, buh, 300. Cosa vi siete raccontati in questi 300 chilometri? Diciamo che c'è stato uno scambio di informazioni fra la sua esperienza del suo giro e il mio. Diciamo che ci sono parecchi punti comuni, soprattutto di una certa zona della Calabria. Che abbiamo visitato, questa bella, però un po' complessa, ecco. Chi meglio di voi può raccontarci effettivamente l'Italia, dato che l'avete percorsa con la vostra bicicletta. Allora, adesso voi siete a Trieste, quindi siete a nord-nord, nord-est con Trieste. Io l'ho fatto percepire questa mattina che volete dare una comunicazione importante e so che è veramente forte questa comunicazione. Vincenzo, qual è la comunicazione? Che, niente, finisce il giro. Torniamo a casa oggi. Tornate a casa. Allora, io voglio fare intanto un applauso a Vincenzo, perché quando me lo ha comunicato ieri, ovviamente con molto dispiacere, immagino, Vincenzo dice, Teo, sono veramente stanco, ho fatto quasi 5.000 km, siamo stanchi. Ho detto, ragazzi, il periplo lo avete fatto quasi tutto, perché sostanzialmente avete girato tutta l'Italia, dalle isole, Sardegna, Sicilia, dalla Calabria fino a Trieste, immaginate voi, quasi 5.000 km. Quindi non posso far altro che darvi un abbraccio forte e farvi complimenti, perché secondo me è stato un successo, quasi 5.000 km in bicicletta. Anche oggi ne faremo qualcuno, saranno, non so, 30-40 km, poca roba. E diciamo, il mio giro comunque non sarebbe, non credo che sarebbe arrivato a 7.000, perché ho dovuto tagliare una prima parte in Piemonte, che c'era neve, nel passo che volevo fare. Poi non ho completato tutto il giro della Sardegna, non ho completato tutto il giro della Sicilia, però comunque, insomma, quasi 5.000 km ci sono. Sulle gambe ci sono. La bicicletta come sta? Sta bene? Benissimo. La bandierina c'è ancora? Esatto. Vediamo, vediamo la bandierina. Guarda che bello. Guarda che quello è un cimelio, mi raccomando. Radio Alta ha fatto questo giro che noi abbiamo seguito. Sentite, che cosa ricorderete di questi quasi 5.000 km in bicicletta? Quali sono stati i vostri pensieri? Vincenzo. Allora, la prima cosa che, anche confrontandomi con Vincenzo, i vari problemi che abbiamo avuto e come li abbiamo risolti, perché tutti quelli che mi hanno messaggiato, eccetera, eccetera, o che mi hanno sentito sui social, eccetera, belli i posti, vai a mangiare qui, fai questo, fai quell'altro, ma purtroppo l'aspetto romantico del giro non è proprio così, perché spesso ci sono problemi, spesso bisogna trovare da mangiare per dire e non si trova perché c'è tutto chiuso, oppure il primo paese è a 40 km, bici che si rompono o hanno problemi, forature, lui poi ne ha fatte tantissime, quindi bisogna risolvere tutte queste cose, compreso lì che abbiamo, diciamo, un'altra parte molto in comune, trovare da dormire. Spesso in diverse zone e per diversi motivi abbiamo avuto veramente... Delle difficoltà. Ok, però voglio sentire dall'altro Incenso... Ci sono state anche cose belle. Ecco, voglio sentire le cose belle, Incenso, dai, dimmi delle cose belle, dai! Dal mio canto alcune cose le posso condividere con Vincenso, per me la cosa più importante è stata la natura e la bellezza della natura. Sul Pollino e in Sila ho fatto davvero delle esperienze incredibili. La natura è rigogliosa, bella e ne ho, come dire, ne ho goduto fino in fondo. Dall'altra parte, sì, abbiamo avuto delle difficoltà che però diventano una storia da raccontare alla fine, no? Certo, certo. Ecco, torniamo a casa con un bagaglio di esperienza incredibile. Immagino un bel libricino, no? Incensi, no? Un bel libricino. Pensavamo a una presentazione perché abbiamo anche dei video, abbiamo tante fotografie. No, sì, tante cose, tante cose. E sarebbe bello fare magari una presentazione con tutto il materiale e i nostri racconti. Certo, certo. Un po' come abbiamo fatto durante il corso di queste trasmissioni qui su Radio Alta. Tra l'altro ci sono anche delle belle immagini qua, oltre le brioche paniche. I love bikers. Eccovi. Ma dove eravate qua? Perché ho visto Star Wars. Cioè, fatemi capire. Io sono una fan di Lord Fenner. Dove eravate? Fammi capire, Vincenzo. Eravamo al castello Miramare di Trieste e a un certo punto sono entrati, diciamo, tutta una scenografia di Guerre Stellari che, devo dire, è organizzata benissimo. Eh? E' molto, molto, molto bella. Con i costumi originali, vedo. Cioè, ci sono le guardie di Lord Fenner che... Ragazzi, queste sono... Ma le spade erano laser? Eh, laser, insomma. Sì, ma di che erano laser, Vincenzo, ci sono i bambini. Erano laser, quelle vere. Cioè, Lord Fenner vero. Fantastico. Bella, bella, bella Trieste. Qua siamo ancora a Trieste, zona Trieste qui? No, questa è appena dopo Duino, andando verso Trieste. C'è questo paesino che è nato intorno a questo porto turistico. Ma tutto ordinato. Caspita, ma che bello. Questa è l'estata del castello di Miramare. È molto bella la zona. È un po' forse casinata. Questo è Duino. Lì in fondo c'è un... Sopra la Falesia c'è, diciamo, il campeggio dove ci siamo appoggiati. E tu questa Falesia l'hai ovviamente arrampicata, no? Sì, perché qui tempo fa sono venuto in ferie con Giusi e i figli e in pratica scendavamo al mare poi la sera loro tornavano sul trenino e io mi facevo la mia arrampicata e curiosità che poi quando ho un'ora di cena io salivo fino in cima alla Falesia e entravo dal bar del campeggio e tutti mi guardavano un po' storto perché entravo con imbrago, porto. Eh certo, certo. Questi alpinisti bergamaschi. Invece poi vedo che mi hai mandato anche un file, anzi due file video. Vediamo un po'. Qua ci sono delle meduse. Sì, c'era tutta la zona prima di Trieste fino a Trieste piena di meduse ma sono meduse gigantesche. Infatti stavo vedendo mi sembrava quasi mi sembrava un trucco cinematografico visto Guerre Stellari e invece sono proprio meduse pazzesche. Ma sono gigantesche veramente. Ma cosa significa questo? Che segnale è? Non hai chiesto? Non ho chiesto in giro ma è un po' strano diciamo. non ho mai visto una cosa del genere. E poi qua c'è il castello. Tanti video, tante immagini. Sai, un po' insieme a voi abbiamo fatto il giro d'Italia anche noi qui a colazione con Radio Alta. Ti arrivano dei messaggi. Vincenzo, una pacca sulla spalla. Se hai mollato vuol dire che non ne avevi più. Complimenti lo stesso. Ecco, quindi vedi che arrivano i complimenti. È mollato nel senso sì, sono stanco eccetera. abbiamo fatto fatto alcune scelte ma ho terminato. Diciamo l'unica città che adesso mi resta indietro è Trento. E fai Trento! Fai Trento 31! Ho fatto Trento faccio Trento faccio Trento faccio Trento fai Trento e sei a posto e chiudi alla grazia. Trento l'ho lasciato indietro anche perché lo conosco un po' come Bergamo. Allora facciamo una cosa. Il prossimo anno tu riparti con Vincenzo ok? Oppure aspetti me dato che manca poco alla pensione e partiamo insieme e facciamo cosa dici? E facciamo il giro d'Italia insieme però lo finiamo perché io non mollo proprio no 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 7000 7000 li facciamo no ma complire sto scherzando Vincenzo hai fatto un'impresa veramente straordinaria avete fatto un'impresa straordinaria sono molto contento di averti seguito con una colazione a questo punto dato che tu torni l'ultima settimana di giugno che sarà l'ultima nostra vai ci dobbiamo ci dobbiamo vedere per festeggiare e per ricordare questi 7000 chilometri quasi fatti insomma con quasi con i due incensi ragazzi grazie Giussi sarà contenta o no? Sì 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 lei mi ha spronato ieri sera a dire no dai vai anche a Trento e gli ho detto no allora primo cioè sera una città ma hai già deciso? hai già deciso? sì 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 io farei Trento guarda io apro adesso un sondaggio deve fare Trento 30 ha fatto 31 no? i 33 trentini vedi tu se vuoi fare Vincenzo cosa dici? Vincenzo allora io continuo a ripetergli che una volta fatto Trento potrebbe fare anche Bolzano e venire un po' in Suttirolo perché insomma potremmo fare proprio l'ultimo ma dai 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 forza dai pensaci ripensaci un pochino prendi un po' di forza magari fermati un giorno in più no? Vincenzo sì adesso ho mezz'ora di tempo per convivere dai dai ci pensiamo anche noi anche gli ascoltatori deve continuare deve continuare Vincenzo Cervi cioè i due incensi devono continuare adesso vediamo va bene dopo vi dico dal sondaggio ragazzi intanto grazie grazie Vincenzo grazie grazie a tutti per quelle belle emozioni ricordati che quando fai le interviste c'è anche Radio Alte Bergamo TV non dimenticarti se no ti tiro le orecchie vi tiro le orecchie ciao ragazzi complimenti ancora colazione con Radio Alta Radio Alta grazie a tutti